Alcuni parlano di messianismo umano, che era quello, viene detto, perseguito dai giudei, e di messianismo divino che avrebbero introdotto la comunità cristiana. Questa dicotomia è quanto nel passato è stata fatta passare come un dato di fatto inoppugnabile, quindi un monolite del giudaismo che era convinto del messianismo umano, ovvero che il Messia era solamente umano. Ma le cose stanno veramente così? Alla luce degli studi, degli approfondimenti e di quello che ci dice la storia, oltre che le scritture, no, le cose non stanno affatto così. C'erano infatti diverse idee nel giudeismo, c'erano quindi intendimenti addirittura radicalmente differenti all'interno stesso del giudeismo. Quindi possiamo serenamente dire che vi erano diverse correnti. L'una tendeva per un messianismo puramente umano, qualcuno per un messianismo magari angelico e qualcuno per un messianismo divino. Questo è un dato di fatto. Messia divino è il vero intendimento ed è quello che ovviamente noi crediamo perché tiene conto di tutte le scritture. Il principio che la somma della parola di Dio è verità è un principio ermeneutico da non dimenticare mai. Quindi non si è imposto gradualmente, non fu il frutto di una riflessione come alcuni vanno cianciando, è assolutamente un errore pensare a una cosa di questo tipo, ma al contrario era già un dato di fatto che è stato acquisito nella consapevolezza delle scritture vetero testamentarie e poi con l'esperienza, la vita, il mistero di Gesù Cristo incontrato direttamente ovviamente in mezzo di noi. Questa è la realtà di fatto. Quindi dire che c'è stato un messianismo umano che è quello creduto da tutti i giudei e il messianismo divino invece che è stato una rielaborazione ellenistica da parte dei cristiani è un errore storico, un errore teologico, un errore biblico che è stato sostenuto da diverse persone, da diversi studiosi. Un errore tragico perché non tiene conto della realtà. Ricordo solo due piccoli, come dire, due piccoli esempi. Il Messia è definito padre di eternità, è definito consigliere ammirabile, è definito con tanti titoli divini già nell'Antico Testamento. Dio potente, El Gibor. Noi abbiamo l'identità del Messia le cui origini risalgono all'eternità, lo troviamo nel profeta Michea. Altresì troviamo la sua kenosis, cioè quindi il suo annichilimento, il suo abbassamento, il suo venire in forma umana in mezzo agli uomini, assolutamente sì. Quindi dalle scritture noi sappiamo che il Messia, che è divino, consustanziale al Padre, per usare un termine a noi cristiani molto caro, che nella pienezza dei tempi si è fatto carne, il verbo si è fatto carne ed è venuto in mezzo di noi.